Hanno scelto il posto giusto, il bivio della morte, sulla strada provinciale 105 che collega Foggia con Ascoli. Proprio lì sul bivio hanno ucciso un uomo e poi lo hanno carbonizzato dandogli fuoco, forse nella sua stessa auto, una lanciatema ultimo modello. Il fatto è avvenuto ieri sera a tarda ora. Una telefonata anonima ha allertato le forze dell'ordine. La voce dall'altro capo del telefono ha raccontato di aver sentito degli spari e di aver visto levarsi subito dopo una fiammata. In realtà sul posto è stata rinvenuta l'auto ancora in fiamme. Spento l'incendio è stato possibile appurare che all'interno della vettura c'era un corpo carbonizzato. Nei pressi dell'auto distrutta sarebbero state rinvenute cartucce di fucile ma è presto per dire se siano ricollegabili alla stessa vicenda. Dell'auto si è salvata la targa per cui già ieri sera gli inquirenti sono potuti risalire al proprietario ma al momento il suo nome viene mantenuto segreto. D'altra parte il corpo carbonizzato rinvenuto nell'auto potrebbe non essere quello dell'intestatario della vettura. La prima impressione che gli inquirenti hanno avuto è che si sia trattato di un regolamento di conti tra le cosche criminali foggiane, il primo omicidio del nuovo anno. La scia di sangue ricomincia.